Poi, preso il pane e le sei grazie, lo spezzò e lo vede loro dicendo Questo è il mio corpo che è nato per voi, fate questo in memoria di me Preghiamo perché ogni cristiano trovi nell'Eucaristia Memoriale perenne della Pasqua del Signore La sorgente della vita, il vincolo dell'unità E la forza per testimoniare l'amore Quinto misterio, la instituzione della Eucaristia Tomo Gesù Zumba lo partìo e se lo dio dicendo Tomà, questo è il mio corpo entregato per voi Tomando una copa la passò a un disciclore di Cien Tomà e ved, questa è la mia sangria derramata per voi Con Maria